Si erano dati appuntamento al bar di via d'Alessandro per regolare una questione futile di gelosie tra ragazzi. I due gruppi di conoscenti che domenica sera hanno dato vita alla rissa durante la quale sono volate sedie, tavoli e suppellettili varie. Gli agenti del commissariato di polizia Nocerino hanno individuato gran parte dei protagonisti e venuto a capo della inqualificabile vicenda in meno di 24 ore. L'attività, posta in essere dagli agenti del commissariato di Nocero Inferiore, ha reso possibile l'identificazione dei responsabili che sarebbero originari di un comune limitrofo. Avrebbero iniziato a discutere animatamente nella loro cittadina, ma visto che il chiarimento stava prendendo una brutta piega, sono partiti con le loro auto alla volta di un territorio neutrale per suonarsene di santa ragione. Hanno scelto il Deors di un noto locale nocerino per ritornare sulle loro posizioni e scontrarsi violentemente. Dalle immagini si vede che uno di loro si presenta con un bastone di colore bianco intenzionato ad utilizzarlo. Passano pochi secondi che si azzuffano come galline in un pollaio. Solo la prontezza del titolare, del bar Petruccelli e dei dipendenti ha evitato il peggio. Pronto l'intervento degli agenti della squadra volante del commissariato Nocerino diretto dal vicequestore ingenito che hanno avviato le prime indagini. La ricostruzione è grazie anche all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona a ridosso del quartiere Cicalesi. Nel giro di poche ore gli uomini diretti dal responsabile della squadra investigativa Malatesta avrebbero chiuso il cerchio. Identificate almeno otto dei protagonisti che risponderebbero di rissa e o di rissa aggravata. Il lavoro certosino degli agenti del commissariato ha permesso la veloce conclusione delle indagini. Resta l'amarezza per la violenza gratuita che negli ultimi tempi è in aumento anche nelle nostre realtà e che fa temere per il futuro delle giovani generazioni. Una riflessione aperta tra i vari livelli istituzionali e sociali.